Siamo all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con la questione Ponte Buriano perché sono iniziati i lavori per la segnaletica. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della segnaletica di Ponte Buriano dopo il ponte alternativo e tutto quello che è successo da Capodanno in poi, ovvero alcuni incidenti stradali che hanno preoccupato non poco i cittadini residenti della zona e anche chi comunque deve raggiungere Cassiglio Fibocchi. Gli operai alle nostre spalle, come vedete, sono già al lavoro e noi abbiamo comunque sentito direttamente il presidente della provincia Polcri e il consigliere provinciale delegato proprio ai lavori sulla segnaletica Morbidelli. Quello che riguarda le polemiche di questi giorni, giustamente perché ci sono stati dei sinistri anche in concomitanza della fine dell'anno e dell'inizio dell'anno, riguardano la nuova viabilità a questo ponte. C'è stata una conferenza chiamata conferenza dei servizi, io non ho partecipato perché allora non ero presidente, ma la mia predecessore e gli uffici erano presenti in quella riunione. Cercheremo assieme agli altri enti, tutti insieme, di trovare delle soluzioni adeguate per potenziare anche la segnaletica. Il problema sta nel tratto che si vede il vecchio ponte buriano, è quello il tratto di difficoltà, quella curva, che è ampiamente segnalata prima anche con del segnale luminosi, ma probabilmente noi dobbiamo fare un aggiustamento maggiore visto che c'è questa possibilità che ci sia un malintese, anche perché nel traffico locale da ponte buriano, pur non attraversando ponte buriano, possono venire le macchine verso Arezzo. Abbiamo visto che la possibilità di mettere della segnaletica luminosa, quindi proprio comunicata a rifrangenti, e anche luminosi che possono impedire di orientarsi verso ponte buriano, ma di accettare la curva a destra e quindi andare verso il nuovo ponte, secondo noi potrebbe essere veramente una soluzione definitiva. E sono tre in omillizza per il ruolo di guida della Procura di Arezzo. È corsa a tre per il posto di Procuratore della Repubblica di Arezzo. Secondo indiscrezioni, in cima alla lista ci sarebbe Iulia Maggiore, attuale sostituto Procuratore di Arezzo, stretta collaboratrice dell'ex Procuratore Roberto Rossi, oggi Procuratore Generale ad Ancona, ed in prima linea in inchieste importanti come quelle relative a Banca Etruria. Altri nomi che sono circolati proprio in queste ore sono quelli di Nicola Marini, legato all'inchiesta sul suicidio Rossi ed il caso Monte dei Paschi, indagato e completamente uscito fuori dal caso a Genova, e ancora Gian Federica Dito, conosciuta ad Arezzo per essere stata il giudice che ha condannato Lorenzo Franceschi dopo i fatti della CGL di Roma. I tempi non sarebbero brevi, non se ne parlerà infatti fino a settembre, vedremo poi se le indiscrezioni corrisponderanno poi alla realtà. Colpo all'imbrunire all'interno di una villetta unifamiliare a Tuori di Alpino è il 10 gennaio, ne dà Notizia Rezzo Notizie, di cui mostriamo anche la foto tratta dal sito. I ladri sono passati dal retro dove hanno sradicato un'inferriata, rotto una persiana e forzato la porta a finestra. Poi all'interno dell'abitazione si sono messi all'opera, buttando tutto a suo quadro, svuotando armadi e cassetti e portando via 20 mila euro tra contanti, orologi di marca, gioielli e borse. I proprietari sono rientrati intorno alle 19 e l'hanno trovata aperta. Dalle telecamere di vigilanza al vaglio dei carabinieri, tre o quattro le persone in azione presumibilmente con un palo e gli altri a mettere le mani sul bottino. In carcere un 37enne che deve scontare sei condanne. Vediamo. Sulla sua testa pendevano sei condanne definitive, tra cui una rapina a Campo Marte, 37enne arrestato dalla squadra mobile. Le sei diverse sentenze definitive di condanna per reati commessi tra il 2012 ed il 2021 ad Arezzo. In questo periodo di tempo l'uomo si era reso autore di furti, violazione della normativa in materia di immigrazione, porto di oggetti atti ad offendere, spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali ed una rapina. Le indagini condotte ad inizio del 2019 dagli investigatori della squadra mobile diretta dal commissario capo Sergio Leo avevano permesso di identificare proprio nell'uomo arrestato l'autore del reato commesso nei pressi della stazione ferroviaria nei confronti di uno straniero, al quale sotto la minaccia di un coltello erano stati sottratti i soldi. A seguito dell'emissione del provvedimento restrittivo, le ricerche dell'uomo hanno consentito il suo rintraccio nella zona di Campo Marte e la conseguente esecuzione della misura. Dopo gli adempimenti di rito, l'uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Arezzo, dove dovrà scontare una pena complessiva di 5 anni, 10 mesi e 15 giorni di reclusione. I carabinieri fanno irruzione in un'abitazione e trovano due uomini intenti a pesare dosi di eroina da smerciare presumibilmente in zona. È accaduto a Bibbiena. I due hanno tentato di nascondere la droga alla vista dei carabinieri. L'immediata perquisizione ha consentito di recuperare circa 40 grammi di eroina e poco più di un grammo di hashish, nonché un bilancino per la pesatura e materiale vario per la preparazione, 6 mila euro circa, frutto probabile dello spaccio. Gli arrestati sono comparsi in tribunale ad Arezzo e qui in seguito all'udienza per direttissima, il giudice nel convalidare l'arresto ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Arezzo in attesa del processo in merito. 12 mesi di esperienza formativa e umana al fianco degli ultimi. La Caritas Diocesana offre 18 posti per il Servizio Civile Universale. C'è tempo fino al prossimo 15 febbraio per presentare la domanda. Si rivolge a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti e propone loro 12 mesi di esperienza formativa e umana al fianco degli ultimi. Entro il prossimo 15 febbraio è possibile presentare le domande per il Servizio Civile Universale Bando 2023-2024 alla Caritas Diocesana di Arezzo Cortona Sansepolcro. Come Caritas Diocesana abbiamo un primo progetto che si chiama Al passo degli ultimi Arezzo che prevede 16 posti all'interno di alcune sedi di servizi operative tra le quali il centro di ascolto diocesano, la casa di accoglienza San Vincenzo, la mensa di urna presso la parrocchia del Sarco Cuore al Giotto, un posto presso il centro Caritas di Cortona e due posti all'Associazione Rondine Cittadella della Pace. Poi ci sono alcune sedi nella zona del Val D'Arno su Fiesole. Nel secondo progetto che è messo a bando che si chiama Non Solo Scuola abbiamo due posti in ambito prettamente formativo-educativo. L'esperienza è di 25 ore settimanali su 5 giorni di servizio con tutta una serie di benefit anche tutelati e garantiti dal progetto stesso. Il recupero del noi attraverso un servizio agli ultimi, il servizio anche in delle realtà di difficoltà o di povertà, penso che diventi un'occasione unica di crescita, di comprensione dell'altro ma anche di comprensione di noi stessi. Il servizio prenderà avvio nel mese di maggio. Per ulteriori informazioni e per gli step relativi alla presentazione della domanda è possibile consultare il sito caritasarezzo.it. Morì in un incidente a Campoluci alle porte di Arezzo mentre era in moto il padre Mauro Saltapari dona un defibrillatore in ricordo del figlio Daniele. Il bel gesto in questi giorni il defibrillatore verrà installato accanto al bar con tanto di targhetta che cita Daniele servirà a salvare vite. Complimenti per questo gesto davvero bellissimo. Riparte l'attività di cultura nazionale lo fa questa sera dal giornalista Luca Telese. Cultura nazionale non si ferma cambia l'anno ma l'attività va avanti si parte proprio questa sera. Sì con un grande autore che è Luca Telese che conoscete tutti un giornalista conduttore tv che viene a presentare un bel libro molto particolare anche molto costeggiato che è La Marchesa, la Villa e il Cavaliere una storia di sesso e potere tra arcore ed arcore diciamo questo è stato un libro molto combattuto perché è stato fermato per molti anni racconta la storia nel 72 di una famiglia importantissima e nobile che è finita su tutti i rotocalchi per uccisioni e per scandali che sono susseguiti e per l'acquisto da parte di Berlusconi della Villa San Martino quindi un grande come dire nemmeno un giallo un bellissimo evento un bellissimo libro che traccia un percorso della nostra storia Questa sera allo Sporting la presentazione sarà del collega Federico Dascoli Il bilancio del 2023 del Museo Civico di San Sepolcro attesta numeri in netta crescita rispetto all'anno precedente Visitatori in crescita San Sepolcro nel 2023 ottimi i numeri del Museo Civico Biturgenze il 2023 ha fatto registrare un incremento significativo nel numero dei visitatori 31.211 ingressi a fronte dei 29.564 del 2022 i picchi nei mesi di aprile agosto e settembre ottimi i risultati nel periodo natalizio che fa contare dal 1 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 un totale di 3.123 visitatori vincente anche la scelta dell'amministrazione dell'apertura straordinaria del 1 gennaio a dare impulso oltre alla straordinaria collezione permanente sono state le mostre allestite all'interno del Museo Civico Aere senza stelle di Giuseppe Fanfani che è stato programmato durante i mesi di marzo-maggio le porte della percezione dell'artista svizzero Simon Berger da luglio ad ottobre la mia San Sepolcro My New Orleans mostra personale di Franco Alessandrini che è ancora in corso e lo sarà fino al 4 febbraio il Museo Civico è un tesoro inestimabile che attrae visitatori da ogni parte del paese l'incremento degli afflussi del 2023 testimonia l'impegno costante nel promuovere e preservare il ricco patrimonio storico e artistico di San Sepolcro successo anche per i laboratori didattici organizzati con le scuole del territorio e con quelle venute in gita a San Sepolcro Dal 28 gennaio al 25 febbraio torna il carnevale più antico d'Italia quello di Foiano e dopo due edizioni vinte da Bombolo c'è voglia di ribalza negli altri cantieri Tutto pronto per il carnevale più antico d'Italia quello di Foiano della Chiana dove dal 28 gennaio al 25 febbraio per 5 domeniche si svolgerà la 485esima edizione del carnevale il cuore dell'organizzazione ruota intorno e 4 mastodontici carri allegorici a realizzare queste opere d'arte sono i cantieri che dalla partenza del carnevale daranno vita a veri e propri spettacoli e che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano azzurri, bombolo nottamboli e rustici questi nomi delle quattro frazioni che si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo attesa da parte del pubblico per scoprire quali saranno i soggetti e i colori rappresentati in forma allegorica da veri e propri primestri della cartapesta e della meccanica dopo due edizioni vinte da bombolo crescono i desideri di rivalza da parte degli altri cantieri che sperano quest'anno di invertire la tendenza non solo carri di cartapesta ogni fine settimana tante iniziative collaterali in piazza Cavour per tutte le domeniche di festa saranno infatti presenti food truck e banchi da assaggio con le migliori eccellenze di strada toscana e non abbinati a vini del territorio per i più piccoli appuntamenti con carnevalandia il carnevale dei bambini con le parate della disney e le sfilate in maschera oltre ad un'area totalmente dedicata a spettacoli mini carri di cartapesta trenini giostre e giochi completamente gratuiti mostre d'arte raduni di auto e moto e tante opportunità per i camperisti con pacchetti mirati all'ospitalità vediamo che cosa succederà questa sera dopo il tg newsline oggi a cura di paolo tilli si occupa della chiusura della storica bottega di gragnano a san sepolcro farà seguito 9 e 10 informazione d'attualità la serata proseguirà poi con la prima puntata della nuova serie dei venerdì di giostra condotta da riccardo ciccarelli ed incentrata sul saracittino è tutto grazie per l'attenzione e arrivederci grazie a tutti